L'8 dicembre alle ore 21 all'auditorium Sant'Alfonso di Pagani ci sarà una serata d'onore in omaggio a Sant'Alfonso. Non solo, ma è anche un omaggio al Natale e vivrò con una grande attesa questo 8 dicembre appunto a Pagani nell'auditorium Sant'Alfonso di Pagani, ora 21, 8 dicembre. Venite, vi aspetto con grande trepidazione.